Grazie. Sono davvero onorato di essere qui, di poter stare seduto tra il professor Magnani e il professor Calcagnini. È stato un incontro, dopo aver iniziato con i funzionari, che ringrazio, il dottor Bertini e il dottoressa Bossoletti, sulla specializzazione intelligente che ci siamo accorti di aver fatto un errore, o quantomeno, di aver fatto una sottovalutazione. E anche a questo serve l'università, serve a tenere la barra e l'attenzione sui focus, serve qualcuno che oltre a fare la ricerca e l'accademia sappia anche indirizzare le istituzioni nelle loro scelte. E qual era l'errore? L'errore, l'ha detto prima Calcagnini, in modo molto garbato, come suo stile, era di aver messo insieme, abbiamo fatto questa scelta, ma probabilmente veritava ben di più, di mettere insieme l'agri-food con l'area salute. Ecco, l'incontro di oggi è un focus molto dettagliato invece, che vuole testimoniare come, da adesso in poi, nella trattativa, nel partenariato e nella specializzazione intelligente, considereremo l'area salute per conto proprio e faremo in modo anche che sia un centrale rispetto alle nostre strategie. e il mio ruolo oggi è quello soprattutto di ascoltare, perché quello che vi chiedo è davvero, in modo molto sincero, aiutateci a creare una strategia che tenga conto della capacità di questo settore di assorbire ricerca e innovazione, perché credo che sia il settore che più di tutti, lo dimostrano i dati che diceva adesso Magnani, ha un margine di crescita. Ecco, la specializzazione intelligente è esattamente questo, riuscire a fare trasferimento tecnologico cercando di individuare quali sono i settori dell'economia che hanno maggiori margini di sviluppo e crescita. E questa è la strategia intelligente in sintesi. E in questa sintesi c'è da scollarsi un po' la nostra vocazione, che ancora sento serpeggiare, tra gli economisti e i marchigiani, perché i dati dimostrano come il nostro export sia rimasto in piedi, solo ed esclusivamente, grazie all'area farmacologica e all'area salute. E questo ne dobbiamo prendere atto, perché se continuiamo ancora a fare incontri e convegni, parlando del modello economico marchigiano, del metal mezzadro, ovviamente faremo sicuramente un amarcord molto interessante e ovviamente dobbiamo sempre partire dalla storia e dalla cultura, non voglio essere dissacrante, però dobbiamo sapere che questa regione ha bisogno di creare un nuovo modello economico. Ecco, questo modello economico non può non tener conto di questo settore, perché nonostante ha il maggior numero di fatturato, soprattutto nell'esportazione, è a metà classifica la nostra regione, invece, per numero di imprese presenti. Questo ci fa capire in modo inequivocabile che il margine di crescita è molto alto. Così come i tempi che viviamo ci evidenziano il fatto che tutto quello che ruota intorno alla silver economy in momenti ordinari e tutto quello che riguarda i vaccini e il drug delivery è in crescita in modo esponenziale. Noi non possiamo permetterci di perdere questo treno, dobbiamo starci con la intelligenza e la sapienza di che deve progettare il prossimo futuro. La specializzazione intelligente riguardante il nostro settore che rappresentiamo qua vale circa un mezzo miliardo e noi dobbiamo riuscire insieme, università, imprese e regione, a capire come farlo diventare un momento di sviluppo economico, un momento di moltiplicatore economico. Lo facciamo insieme, potrebbe essere un grande, una grande ripartire da questo momento collettivo dove si riprogramma il futuro, credo che sia molto entusiasmante. Arriveremo al momento di poterci anche incontrare senza mascherine, senza zoom, speriamo presto. Nel frattempo però noi abbiamo il dovere di non perdere un minuto perché tra pochi mesi l'Europa ci dirà come volete spendere i vostri soldi e la cosa peggiore che noi possiamo fare è replicare il passato. Purtroppo non lo possiamo replicare e non lo dobbiamo replicare, quindi insieme dobbiamo trovare la forza e l'intelligenza di capire invece quali sono gli elementi innovativi da introdurre in questo settore, che ripeto per noi come regione Marche sarà un settore particolarmente centrato e sarà un filone completamente autonomo dal resto, su cui crediamo molto e vorrei insieme a voi dargli sostanza e dargli le gambe per correre. Grazie.